Roma si è fatta in tre quella antica quella mediovale e quella rinascimentale la prima usurpato tutte le rovine dell'italia antica come tutte le sue grandezze a qualcosa di mostruoso nelle sue macerie che bezza taglia all'impero da esse evocato a Roma non è cosa ardua trovare luoghi della città medioevale perché sapendo cercare c'è molto presente e se per le più importanti testimonianze dell'epoca si trovano i musei e chiese anche semplicemente passeggiando per le strade se ne può respirare l'atmosfera a Roma il rinascimento fu un periodo di assoluto splendore culturale queste tre perle di Roma a partire dal XVIII secolo convogliarono verso la città l'aristocrazia europea al fine di perfezionare il loro sapere con un viaggio che aveva una durata non definita e di solito aveva una destinazione che era quella dell'italia e in particolare di Roma e Firenze Roma era una città di provincia maltenuta e chi veniva nella città eterna alla ricerca dei fondali rappresentati dalle basiliche dai palazzi dalle piazze e dai suoi melanconiche paesaggi rimaneva ben presto affascinato dal popolo che l'abitava dai costumi dalle usanze dalle tradizioni da immortalare con la matita e il pennello e di via poco con la carta emulsionata mercella luce al boino è stato re dei longobardi dal 560 circa al 572 anno del suo assassino guidò il suo popolo alla conquista dell'italia abbandonando la ternatia la pannonia dopo essere riuscito a conquistare parzialmente l'italia divenne un personaggio leggendario il re dei longobardi fu ucciso nel 572 in seguito a una congiura organizzata dalla moglie rosmonda la colonna di foca eretta nel 608 al centro dell'area presso i rostri chiude la storia del foro e costituisce la testimonianza di una nuova epoca essa celebra i meriti improbabili di un imperatore bizantino giunto al potere massacrando il suo predecessore maurizio e i suoi cinque figli ma il merito reale nei confronti di roma di questo personaggio è anch'esso segno di un'epoca il dono del panteo a bonifacio iv che la trasformò in chiesa e solo in grazia di questa donazione che il monumento è giunto fino a noi sembra che l'imperatore fosse fedele al papa e roma tanto che il papa chiuse un occhio sulla sua crudeltà definendola addirittura pietà di fatto fu l'imperatore foca che hanno un decreto per stabilire di nuovo che la sede di san pietro l'apostolo deve essere a capo di tutte le chiese vano quarto istituì la festa di tutti i santi su un alto podio sorgono le tre colonne corinzie supersiti del tempio dei dioscuri o dei castori come dicevano più spesso i romani privilegiando uno dei due gemelli divini il culto greco fu introdotto a roma assai presto all'inizio del quinto secolo la leggenda narra che nel corso della battaglia presso il lago reggillo 499 avanti cristo che opponeva romani e latini alleati di tarquino il superbo nel tentativo di riconquestare roma apparvero due misteriosi cavalieri e guidarono i romani alla vittoria subito dopo gli stessi cavalieri furono visti a beverari cavallia alla fonte di giuturna e annunciarono in città la vittoria per scomparire subito dopo il popolo riconobbi in essi i dioscuri il dittatore aulo postumio albino fece voto di dirigere un tempio in loro onore che fu dedicato da suo figlio nell'anno 484 la basilica giulia lunga metri 101 larga 49 occupa il luogo di una delle più antiche basilica la sempronia eretta dal censore tiberio semponio gracco il padre dei celebri tiberio gaio nel 170 avanti cristo la costruzione fu iniziata da cesare probabilmente già nel 54 avanti cristo insieme al restauro dell'emilia e il nuovo foro di cesare essa fu completata da augusto ma bruciò subito dopo nel grande incendio del nuovo avanti cristo ricostruita fu dedicata ai due figli adottivi dell'imperatore gaio e lucio ma conservò sempre il nome e l'impianto il tempio di saturno era il tempio dell'erario pubblico cioè dove si teneva il denaro pubblico il tempio fu costruito per celebrare la fine delle lotte secolari tra partizi e plebei la basilica emilia è l'unica rimasta delle basiliche repubblicane il tempio di vesta uno dei più antichi e importanti santuari di roma ospitava il fuoco sacro simbolo della comunità ed era strettamente connesso con la casa delle vestali le rovine del foro romano danno l'impressione di essere separate dai fori imperiali ma i due fori formano un insieme architettonico unitario isolato dal resto della città e strutturato attorno cinque grandi piazze porticate i fori sono la testimonianza della grandezza e magnificenza dell'impero romano questa è la grande roma che ha attirato milioni di turisti in passato e ne attirerà sempre in futuro e